Che tra beni culturali e mondo universitario ci sia un grande legame è fuori di dubbio e la cosa coinvolge anche l'Università della Calabria in modo particolare a partire dall'anno accademico 2016-2017 ed è un legame che vede protagonista il D-Best, ovvero il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienza della Terra dell'Ateneo Bruzio e passa da Roma esattamente da Fontana di Trevi. I successi ottenuti infatti alla ricerca scientifica svolta presso il D-Best nel campo del restauro dei beni culturali e delle biotecnologie che ha prodotto risultati di grande impatto internazionale come testimoniano la partecipazione al restauro della Fontana di Trevi e le pubblicazioni sulle prestigiose riviste Nature e National Geographic hanno portato alla nascita di due nuovi corsi di laurea, il corso di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione nel restauro dei beni culturali e il corso di laurea magistrale in biotecnologie per la salute. Dunque due nuove opzioni per gli studenti dell'Unical che potranno così acquisire titoli di studio decisamente competitivi.